Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Istituto Piepoli per Studio 24, Rai News 24, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Vediamo che il PD perde il primo posto, scende dello 0,5 al 21% e Fratelli d'Italia guadagna lo 0,5 e sale al primo posto con il 21,5. La Lega perde mezzo punto, scende al 16, il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto e scende al 13,5, Forza Italia al 7,5, Azione e più Europa abbiamo il 4,5, Italia Viva il 3,5, Sinistra Italiana il 2%, Paragone con Italexit al 2%, Italia Verde 2%, articolo 1, 1,5%, tutti gli altri partiti messi insieme raccolgono un 5%, crescono del più 1%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.